Quando è stato istituito il premio Qualità della Vita, oltre 30 anni fa, il presidente del Comitato, professor Carmine Carlucci, intendeva già fornire ai più giovani degli esempi virtuosi, con riferimento ai valori costituzionali e ai concetti di democrazia, impegno e sacrificio. Quest'anno il riconoscimento del Comitato per la Qualità della Vita è andato prima di tutto al corpo dei Vigili del Fuoco. Questa iniziativa del Comitato, che ci vede assegnatari di questo premio prestigioso, di cui noi ci onoriamo, perché migliorare la qualità della vita significa agire bene nell'ambito della propria attività istituzionale. Quindi io ringrazio il presidente per tutta l'organizzazione e per l'incontro che ha organizzato venerdì, a cui noi saremo presenti. L'impegno dei Vigili del Fuoco nella nostra città, nel nostro paese, nel mondo, e contestualmente l'impegno anche dell'Arma dei Carabinieri, che in sinergia con gli stessi Vigili del Fuoco si impegnano per la tutela del patrimonio culturale, quel patrimonio culturale che noi desideriamo venga sempre più valorizzato, con l'impegno dell'università, con corsi di laurea e nella prospettiva con la scuola di superiore per i beni architettonici, archeologici e restauro.